Ninuzza. Se l'hanno passato non c'era niente. Nina è un uomo musulmane, mi dispiace, ma chiamiamo Marianna allora. Marianna. Lo sai io evi a due signori dell'Aquila e sai chiamavano da chi lo stava fuori. Napoleone, Napoleone. Dessi a che ci viene questo Napoleone? Chiamavano Ciuccio Napoleone. Sì? Sì, nome importantissimo. Certo, certo. E questo è femmina e maschio? No, tutte le due femmine. Ehi. Tutte le due femmine. Ah, qui c'è? Questi li chiamano Ciuccio, però non sono Ciuccio. Ciuccio sono chi li chiamano noi. Sì, sì, sì. Ah, lì c'erano tisi e sentono l'odore di quei prezzi e di quei no. È vero? Questi erano i grandi lavoratori una volta perché carriavano tutto. Con questi qua era il trasporto. Tutto, in tutto e per tutto si lavorava con questi. li vedi qua. Proprio naturalistico, proprio a... No, sì, no. Non dico pagliaro. Però qua sotto c'è il porco, c'è i cagnoletti, vedi da qui. E qua guardate, ah c'è la tartaruga, la tartaruga non la via. Ma non sta attento la motonese, eh? No, è chiusa, è chiusa. Ma è d'acqua, è di... È d'acqua, se non riusci i ragazzi, vedi che è alla ricerca di cibo. Ecco qua, qua ci sono l'occhio, dove andavi tutti i ragazzi? Andavi tutti i maneri, ci sono pure tutti i remuti, li vedo la sua. Non lo so che cavolo si dice. Questa domina tutto. Questa la soprassata viene buona. Prassata, sai, non c'è niente. È una bellezza, figliolo. È io, figli, figli. Ma il pioppo nero. Non è che il cano destro. No il cano destro, il pioppo nero. Quello lì significa che è a nord. Sì. Vedi che di là esce la, eh, una specie di felce, da questa parte nord. Perché lì è a nord, e qui è a sud. È a sud, sì, perché noi diciamo lo destro. Ah sì, lo destro. Lo destro è domacusso. Lo destro è domacusso. Perfetto. Sì. Vedi che devo fare un'altra. I cucchiarini, sai che sono? I cerini. I cerini. Che poi si fanno raggi. Ecco. Ma qui è, a limonia. Quando erano figlioli, allora, sempre arrampicavano figlioli. Gli andavamo a questa campagna fuori. Se arrampicavano, allora, dei chomari, che cominciavamo? Sì, 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 sì. Se la mattina si spezzavano, andavamo l'ossa. Sì, sì, sì. Però non è mai successo, perché questa è una erba forte, eh. Sì. Facevamo tarzani, a limonia. Chiudi l'orto botanico. Sì. Ci sono pure i sambucci servaggi. Sì, c'è il sambuccio. L'orto botanico. L'orto botanico era importante, eh. L'orto botanico era importante, eh. L'orto botanico era importante, perché faceva sia una cosa sia un'altra. Perché usavano i canni come un palanaso reale. Usavano pure i fogli per lucidare il cuoio, l'ho usato? Sì, lo sapeva, infatti stava dicendo. Perché aveva silicio la foglia. Questa qua, eccola qua. E poi prenderò un'altra. Questa canna, a cima della canna, quando si tratta di urano, quando si tratta di urano, quando si tratta di urano, come dicevano i nanni, questa canna è un palombino. Urano. Avevano materiale, questa foglia. Sì. Però, quando si tratta di urano, a cima della canna, la canna è un salato, la canna è un palombino. Anche il sedante. Vedi quanto ti imparo? Eh, barca, io che ti disse? Un'altra. Questi canni, quando io ero figliola, trovavano spasso che non vedi qua. Gli chiamavano i palettetti. Però l'amico mio sapeva un nome naturale. Come si chiamano? Equiseto. Equiseto. E' erba medicinale che è antitumorale, vero? Stiamo acquisendo un'altra, vedi? Più gira una, più sapi e più trova. Certo, sempre. Bisogna sempre si confronta una. Se non si confrontano, andiamo a noi da parte. Come si dice quando vi dico io, lavoriamo in rete. Che questo vuol dire? I palettetti. I palettetti. Guardate qua. Io ero spasso mio, quando non faccia niente. Vedi qua, si spezzano. E mi passava a urati. Perché a certe volte non faccia niente. E che facevi? Mamma mi ama. Mi ama, non mi ama. No, da chi ti darà fuori mamma mi ama, sì. Facce così e mi spasso. E ti passavo tempo? Sì, mi passavo tempo. Mi passava mezzo giornate. Era proprio la becattina. Mi passava dove corriva l'acqua. E io stavo riaiornata. Guardate là. Un strusci l'acqua e io stavo riaiornata. Qui puoi. No, non ci sono i miei non mai. La ricetta... No, non ci sono i miei, tutti mi sono altri. No, non lo legamo, ma viviamo fuori già di quanto mari. Dico la lero, la lero, la la, da calabri se la morire mi fanno. Guardata. Hai una forza. Salute a tutti ragazzi, ti troviamo con la chiamara di... La Ruppa. La Ruppa, è qualcosa di eccellenza. Mi mancavo macchature oggi, perché mi piglio proprio intervisto questi signori. Ok, comunque ci sta. Onore e merito alla Calabria.